Un giovane di Irgoli è stato arrestato ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Siniscola, diretta dal tenente Andrea Senes, perché è trovato in possesso di oltre due eti di marijuana. Salvatore Mulas, di 29 anni, è stato fermato a Orosei nel corso di un normale controllo stradale dai carabinieri di Siniscola e della locale stazione. Dopo aver effettuato il controllo dei documenti, i militari, insospettiti dall'atteggiamento del giovane, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e della tua vettura di Mulas. E qui la sorpresa, sotto un sedile i carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente oltre due eti di marijuana. Per Salvatore Mulas sono immediatamente scattate le manete con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La marijuana è invece stata sequestrata. Stamattina il giudice ha convalidato l'arresto del giovane di Irgoli.